For I am the Lord, the Lord who heals you, I am the Great, I am, my joy is healing you, oh I am the Lord, the God of second chances, by his stripes he will impart my healing. Ciao e benvenuti a questa edizione speciale di Generation XS, sono Kendall Tursios e sono qui oggi con due buoni amici, Paul Connef che è il direttore del ministero di preghiere e discepolato dritto al cuore e Ben Hernandez che è pastore a Beaumont, Texas. Paul sono veramente felice che tu sia qui, grazie per essere con noi, raccontaci un po' di te. Sono cresciuto in una casa con otto figli, molti conflitti, sono cresciuto, ho diventato cristiano ma poi mi sono allontanato, ho trascorso molto tempo nel mondo, sono tornato e ho finito per diventare un pastore, nel mio primo gruppo di giovani ho ritrovato molta della sofferenza con la quale ero cresciuto, c'erano ragazzi che lottavano con droghe e dipendenze, rabbia in casa, angoscia, ragazzi che erano stati violentati, sapevo di doverli portare a servire Dio, ma non sapevo come aiutarli nella loro sofferenza, così ho cominciato il mio percorso che ora è diventato dritto al cuore. È interessante, le persone sentono la parola o la frase dritto al cuore, puoi dirci un po' che cosa significa, ministero di preghiera e discepolato dritto al cuore, spiegacelo un po'. Quello che vogliamo fare è che il Vangelo di Dio vada dal cuore di Dio al loro cuore, quello che cerchiamo di fare è condividerlo in modo che possano connettersi ad esso qualcosa di personale e significativo, non è solo teologico, ma personale, parla a loro del loro vissuto perché abbiano un salvatore non teorico ma pratico. Bene, mi piace. Ben, sei pastore da tanto tempo e conosci bene dritto al cuore. Cosa vuoi dire alla gente di te e del background del tuo ministero e perché questo è importante per te? Faccio il pastore da dieci anni e avevo degli schemi mentali negativi nella mia vita e avevo a che fare con la mia sofferenza, con il mio dolore. Nel 2010 Paul parlò ad un gruppo di pastori durante un corso di formazione ed è lì che ha condiviso dritto al cuore e quello che può fare per la nostra sofferenza e per gli schemi mentali che abbiamo. Mi ha mostrato con la Bibbia il modo di applicare questi principi alla mia vita per sperimentare una libertà che dura nel tempo. È come una cipolla, si toglie strato dopo strato. Sono stato davvero benedetto a far parte di questo ministero. Vedete che sorrido anche se stiamo parlando di cose pesanti, ma la ragione per cui sorrido è che questo ministero è così potente, letteralmente cambia le vite e posso dirvi dalla mia esperienza che dritto al cuore è stato il ministero più significativo nella mia vita. Non sarei ancora qui, devo dirti Paul, non sarei ancora nel ministero oggi se Dio non mi avesse messo in contatto con dritto al cuore. Chi ci guarda sente dritto al cuore, dritto al cuore. Ma che cos'è? Dici di più. So che ci sono storie vere che saranno forti da ascoltare per chi ci segue. Sì, siamo un ministero di preghiera e di scepolato, vogliamo che la parola di Dio parli alle persone regolarmente. Stavo conducendo una sessione di formazione, c'era un uomo qui negli Stati Uniti che era tornato in Inghilterra, aveva un'amica musulmana che usciva da 17 anni di violenza domestica, è un sacco di dolore. E cosa che non sorprende si ritrovò nella stessa situazione del suo matrimonio. Ha condiviso con lei ciò di cui parleremo oggi e le ha detto non devi per forza essere una cristiana perché Gesù ha guarito persone prima che sapessero chi fosse. Ci sono molti esempi del genere nel Nuovo Testamento, questo fornisce un'occasione per pregare con le persone, se sono aperte. Lui le disse devi solo sapere che sono un cristiano, lo insegnava dritto al cuore, la donna è andata a casa e ci ha pensato su, aveva alle spalle 17 anni di violenza domestica. Diceva non credo in Gesù come mio signore Salvatore, non credeva alla Trinità, cosa che del resto non ci si aspettava, ma provava dolore, era infelice. Era disposta a pregare con lui, l'hanno fatto per un paio di volte, poi non si è fatta sentire per un paio di settimane. Un giorno l'ha chiamato e gli ha detto ho capito. E ho capito cosa? Visto che non credeva in Gesù come suo signore Salvatore, beh aveva già condiviso con alcuni suoi amici quello che Gesù stava facendo per lei, connettendo la sua storia alla storia di Gesù, e ha detto sai lo spirito santo mi ha convinto che Dio mi ha chiamata per nome e Gesù è ora il mio signore Salvatore. Incredibile, incredibile! È entusiasmante per due ragioni. Numero uno, è stato un ponte costruito tramite Gesù e la sua croce, qualcosa di pratico, personale e significativo, e non sono stato io a farlo, ma il mio amico George Hamilton. Questa non è la tipica persona che entra in una nostra chiesa, non è il meglio che potrei vedere entrare, eppure questa è una storia veramente incredibile. E poi ha voluto maggiore formazione, e George era impegnato così, mio fratello, che vive in Costa Rica e si occupa della nostra opera in spagnolo, l'ha seguita con il nostro percorso di discepolato. Lei ha un ministero verso gli adulti non udenti, ora è cristiana, è battezzata e va in chiesa. Quanto al suo ministero verso i sordi tutte quelle persone sono venute con lei? Sono stato in Inghilterra per fare formazione ad alcuni pastori, e il suo pastore mi ha detto che da quando è entrata in chiesa ha cambiato le dinamiche della chiesa. È una persona molto orientata alle relazioni, cristocentrica e ha portato vitalità, perché Cristo ha fatto qualcosa per lei. Ben, vorrei che pensassi, ora che Paul ha parlato di questo, vorrei che pensassi a quale tipo di impatto questo può avere nelle nostre vite personali e delle persone che serviamo e di quelle che vediamo quotidianamente. Questo è un esempio reale di come qualcuno, che probabilmente non sarebbe mai entrato in una chiesa cristiana, può essere toccata dal Cristo vivente. Ti faccio una domanda, Paul. Come fai a connettere queste cose? Come diventa reale? Parlaci. Prima di tutto non è avvenuto in chiesa, e ben condividerà ciò che alcuni suoi membri di chiesa hanno fatto all'esterno della chiesa, sul posto di lavoro. Trascorriamo il 60-70% del tempo al lavoro, cosa che crea una grande opportunità per testimoniare. Condividiamo ciò che è in Isaia, in Matteo, Marco, Luca e Giovanni, le parole stesse di Gesù, l'Evangelo di Paolo, dell'autore degli ebrei e di Pietro. Tutti questi includono la sofferenza nel piano della salvezza. Tendiamo a dire alle persone che Gesù è morto per i nostri peccati ed è risolto per darci la vita eterna. Questo è assolutamente vero, non andremo in cielo se Cristo non fosse morto per i nostri peccati. Ma Gesù ha detto, sono venuto per soffrire, morire e risuscitare. All'ultima cena disse, ho desiderato mangiare questo pasto con voi prima di soffrire. E i discipoli non lo capivano, rifiutavano il messaggio del Messia sofferente. Oggi non lo rifiutiamo, ma penso che abbiamo trascurato la sua applicazione pratica. Per esempio, Sandy aveva alle spalle 17 anni di violenza domestica, le abbiamo spiegato che Gesù nacque da una madre singola, a causa di un decreto di morte che si dovette spostare in un altro paese, l'Egitto, per quel decreto. Quindi questo comprende l'essere un rifugiato nel suo piano della salvezza, questo includeva anche il sentirsi solo ed essere abbandonato, adempiendo la profezia, l'essere tradito adempiendo la profezia. Poi è stato spogliato, ha subito abusi fisici, è stato svergognato, umiliato, abusato verbalmente e mentalmente dagli uomini che avevano potere su di lui. Tutto è stato uno specifico adempimento della profezia. Questo assomiglia alle persone con le quali tu e io interagiamo? Sì, dopo tutti questi abusi, questa sofferenza, con la carne a brandelli sulla schiena, Gesù è stato tentato di anestetizzare la sua sofferenza, il che supera ogni tipo di dipendenza. Ogni dipendenza in realtà tende ad anestetizzare il dolore. Cracker Barrelon insegna che dice cibo e prezzi di conforto. Parliamo del cibo come fonte di conforto, andiamo al cibo per ricevere conforto. Ok? Poi ha gridato dalla croce, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Qui abbiamo un salvatore concreto, non teorico. Pensate alla storia di Sandy. Sola, abbandonata, tradita, abusata fisicamente, svergognata e umiliata dagli uomini che avevano potere su di lei e che avrebbero dovuto proteggerla. Questa è la storia di Sandy. Ben, ti vorrei chiedere velocemente, in quale modo vedi che il ministero dritto al cuore ha un'influenza sulle persone giorno dopo giorno? Sandy si è connessa. Non è il tipo che entrerebbe in una chiesa cristiana. Ma cosa hai visto, dato che sei stato coinvolto nel ministero dritto al cuore? Lo hai visto da vicino. Come lo vedi svolgersi nella vita reale? C'è stato un mio parente che mi ha chiamato. Non ha legami con la chiesa, né conoscenza biblica. Non aveva certezze spirituali, ma provava una grande ansia. Mi ha chiamato sapendo che sono un pastore, pensando che potessi aiutarla. Vedeva uno psicologo, uno psichiatra, perfino un ipnotista, e dovevano incontrarsi un venerdì. Mi ha chiamato e mi ha detto, ho questa grande ansia nella vita. Voglio condividere con te qualcosa che mi ha aiutato tanto, ed era dritto al cuore. Non aveva conoscenza biblica, ma ho potuto condividere con lei dei semplici principi per mostrarle che Cristo aveva sperimentato grande ansia nella sua vita mentre era su questa terra. C'era un punto di connessione per lei. Aveva sentito cose diverse su Gesù tramite i media di oggi e come parlavano male di lui in modi diversi, ma ha scoperto che poteva connettersi a lui e ha capito di avere qualcuno che poteva camminare con lei in questo processo. Ha sperimentato una pace più grande nella sua vita, più calma e meno ansia da diverse settimane. Tutti noi che siamo seduti qui abbiamo studiato molto, non vogliamo vantarci, non voglio vantarmi, ma abbiamo studiato molto, abbiamo studiato la Bibbia, abbiamo frequentato molti corsi. Quando hai scoperto dritto al cuore, Ben, e Paul ne parlerà più in profondità, qual è il valore del fatto di capire che Cristo è il Messia sofferente nella tua esperienza? Quando per la prima volta hai scoperto questo messaggio? Com'è stato? Quello che Gesù è, e Paul usa questa frase, un salvatore non teorico, ma pratico. Spesso sentiamo qualcun altro raccontare la storia della sua vita. Spesso ci identifichiamo con quella persona, c'è una connessione, un ponte. Se Paul racconta una storia e io sono passato per un'esperienza simile, mi connetterò a Paul in maniera speciale, i muri sono abbattuti. Quando le persone comprendono che Gesù ha sperimentato così tante cose nella sua vita che si collegano a noi, egli diventa più reale. Non è qualcuno lontano, ma vicino a noi. L'ho visto più volte, come egli si connette alle persone in modi diversi nelle loro vite, ed è entusiasmante vedere come persone diverse possono portare questo ministero sul posto di lavoro, come Paul diceva, nelle loro case, dovunque sono. È una grande opportunità per le persone per potersi connettere a Cristo. Grazie, Ben. Paul, prenditi un po' di tempo per unire i puntini tra il Messia sofferente. Hai parlato del fatto che subì abusi mentali, fisici, verbali. Parlaci un po' di più riguardo a questo. Prima di questo vorrei tornare a quello di cui stavi parlando con Ben. Ho sentito un oratore dire che pensiamo che Gesù sia Mr. Rogers con la barba. Ok, in altre parole è un bravo uomo. Ma sta lassù e non può aiutarmi veramente. Wow, wow! Ed era divino, quindi sapeva che tutto questo sarebbe successo. Ma nella sua umanità era comunque solo, abbandonato, tradito. Isaia 63 dice che avrebbe pigiato il tino da solo. Disse ai discepoli, mi lascerete da solo. Siamo tutti pastori qui. Possiamo capire le pressioni della vita da pastore. Perché? Perché siamo tutti pastori. Se c'è un gruppo di donne che sono state violentate, si capiranno tutte fra di loro, si relazioneranno tra di loro e si sentiranno al sicuro, anche se tutte sono state molestate e violentate da diverse e da persone diverse, hanno la stessa esperienza e comprenderanno la vergogna, la paura e le altre cose che accadono. Gesù può mettersi nei panni di Sandy. Ha un salvatore che è stato picchiato a sangue, come lei lo è stata. Isaia 52,14 dice che era sfigurato più di ogni altro uomo. Quando tutto era finito non potevano nemmeno riconoscerlo. Questo è un Gesù che capisce la sua sofferenza. Questo è molto significativo. Penso a quel Mr. Rogers in cielo. Quasi come un nonno. Come mi può capire? Questa è una delle cose più forti che ho scoperto con dritto al cuore. Che quello che fai capire alle persone non è qualcosa che hai creato o inventato tu. È lì, nelle scritture. Sì, è proprio lì. È Isaia 53, il capitolo sul Messia sofferente. Isaia 53 è chiamato il capitolo del servo sofferente. È di gran lunga il capitolo più citato nel Nuovo Testamento. E i discepoli l'hanno rifiutato. Ogni volta che Gesù diceva soffrirò, morirò e risusciterò il terzo giorno, si disconnettevano. Pensavano a un regno fisico, letterale, a un Messia combattente che avrebbe sconfitto Roma. Certo, perché ciò che sappiamo dei discepoli è che non erano interessati in niente di celeste. Erano interessati... Volevano un regno di Israele fisico, letterale. In pratica Roma stava sopra di loro. Quello che volevano era un Messia combattente che ribaltasse la situazione in modo che essi fossero sopra. Gesù venne per morire per loro, ma venne anche per morire per i romani. Pietro disse, non ti lascerò mai, combatterò per te, andrò in prigione per te e morirò per te. E la scrittura dice che tutti gli altri discepoli dissero la stessa cosa. Erano sinceri? Certamente, erano sinceramente, pubblicamente, incredibilmente nell'errore. La mia sincerità non è sufficiente. Vogliamo quella che io chiamo la metà nascosta del Vangelo, la vita e le sofferenze di Gesù, la sua umanità, per connettersi con la nostra storia. Non è interessante che questo aspetto del Vangelo, che sembra essere nascosto oggi, era nascosto anche allora? Sembra quasi che questo aspetto, l'aspetto della sofferenza del Messia, sia nascosto oggi. Non ci focalizziamo su questo. La maggioranza delle nostre predicazioni è meravigliosa, è una verità fantastica, Gesù è morto, ci dà salvezza gratuitamente, riponiamo la nostra fede in Lui, andremo in cielo, è meraviglioso. Questo non significa annullare questa parte, ma è mostrare un'ulteriore sfumatura, un aspetto in più, e come influenza la nostra vita qui sulla Terra prima di andare in cielo. Quello che fa ampliare il Vangelo, Gesù disse, io sono venuto per soffrire, morire e risuscitare. Alla sua morte, nessuno si aspettava che sarebbe risorto il terzo giorno, nessuno dei suoi familiari, nessuno dei suoi seguaci, c'era solo un gruppo, i suoi nemici, i quali cercavano di salvaguardarsi, non volevano che uscisse dalla tomba. La loro convinzione riguardo a un Messia combattente impedì loro di ascoltare la verità, il fatto che era un Messia sofferente. La loro convinzione faceva da filtro per tutto ciò che sentivano. Dall'altra parte, prima della croce, Gesù diceva, devo soffrire, morire e risuscitare. Dopo la croce, Luca 24, credo che questo sia il legame che connette l'Antico Testamento al Nuovo Testamento, si mette in cammino, non viene detto che siano questi discepoli, gli chiedono se è l'unico che non sa cosa sia successo? Noi speravamo fosse il Messia. Quindi apre loro le scritture, va nelle profezie dell'Antico Testamento, e dice, non sapevate, o insensati e tardi, di cuore, nel sistema di credenza ebraico, nelle scritture, il cuore è la fonte di ciò che crediamo. O insensati e tardi di cuore, non sapevate che il Messia doveva soffrire e entrare nella gloria? Poi va nella camera alta ed ha lo stesso messaggio. Insegna riguardo a questo per 40 giorni. Poi dice ai suoi discepoli, dovete pregare per 10 giorni. Quindi prima della croce, parla di sofferenze, morte e resurrezione. Dopo la croce, enfatizza ancora il Messia sofferente. Dopo i 10 giorni trascorsi in preghiera, sono usciti e hanno detto questo è il Cristo che doveva soffrire. Questo è il Cristo che ha dimpiuto tutte le profezie. Quindi mi chiedo, è possibile che durante quei 10 giorni un tema chiave fosse il Messia sofferente? C'era prima della croce, è ciò di cui parlò loro dopo la croce, ed è ciò che hanno insegnato dopo la croce. Fermiamoci un attimo, Paul. Ben, hai studiato tanto, hai preso la laurea e tutto il resto. Quando Dio ti ha aperto gli occhi su questo aspetto del Vangelo, che cosa hai visto? Perché non l'abbiamo sentito? Perché non ci focalizziamo tanto su questo? Hai qualche pensiero in proposito? La cosa entusiasmante è che Gesù, parlando ai Suoi discepoli, disse ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono ancora alla vostra portata. Sa come rivelare se stesso a noi sempre di più e rivelarci sempre qualcosa di più riguardo alla nostra miseria, a quelle aree della nostra vita che Egli vuole risolvere. Come la donna al pozzo. è andato lì e l'ha incontrata al pozzo ed era una donna che era stata sposata diverse volte e viveva con un uomo che non era nemmeno suo marito. Gesù iniziò una conversazione, rivelandole a poco a poco chi era per lei e quando lo comprese, era entusiasta di aver trovato un salvatore che poteva non solo identificarsi con lei, ma che l'aveva accolta, l'aveva accettata com'era e l'amava troppo per lasciarla dove era. Quando ho conosciuto il ministero dritto al cuore e ho applicato questo nella mia vita e nella vita dei miei membri, è veramente entusiasmante vedere ogni volta che apro la Bibbia e inizio a leggere, vedo una nuova dimensione, come Cristo può connettersi con la mia storia, come Cristo si può connettere con la storia di altre persone. Ed è così entusiasmante condividerlo con le persone, sia che abbiano un background cristiano, sia che non ce l'abbiano. Come abbiamo detto prima, questo è un salvatore che è più vicino a noi di quanto possiamo immaginare. Ogni volta che apro la Bibbia vedo un nuovo aspetto con il quale Gesù può identificarsi con noi. È straordinario. Hai detto che l'hai applicato nella tua vita perché pensavo i pastori non avessero problemi che fossero a un passo dal cielo. Ecco, vedi... Non abbiamo problemi. Esatto, non abbiamo problemi. Vieni a casa nostra e c'è una nuvola intorno ad essa. Non tocchiamo per terra, ma flutturiamo. Quello che dici è profondamente vero. Questo messaggio è così vicino a noi perché ci sono aree nelle nostre vite che Dio ha ancora bisogno di guarire. Sta guarendo anche noi. La cosa entusiasmante è che cerchiamo sempre un luogo dove sentirci al sicuro, dove essere noi stessi e condividere chi siamo. E questo non succede spesso sul posto di lavoro. A volte non succede nemmeno a casa, ma semplicemente in chiesa, dove speriamo che le persone possano sentirsi al sicuro. Ho visto formarsi dei gruppi, come risultato del ministero, dritto al cuore. Gruppi nei quali le persone si sentono più al sicuro nel condividere confidenze. Perché? Perché mettiamo Cristo in questo processo. Possiamo essere onesti con Lui. Egli ha condiviso tutto con noi ed opera nella nostra vita e possiamo essere sinceri gli uni con gli altri. Non significa che devo gettare i miei panni sporchi o la mia spazzatura su di te, ma è un modo per andare da fratello a fratello e da sorella a sorella verso il trono della grazia e della misericordia dove possiamo trovare aiuto al tempo opportuno, come ci dice Ebrei 4, 15 e 16. Questo è il tipo di ambiente che vogliamo creare nelle nostre chiese, un luogo sicuro nel quale Dio possa portare guarigione passo dopo passo nelle vite delle persone. Paul, mentre ascoltavo Ben, così come posso testimoniare della mia vita, questa cosa è veramente reale. Non è il fatto che siamo nella sofferenza, tutti noi soffriamo, ma a volte le chiese possono essere luoghi nei quali le persone vengono per fingere, vengono con una facciata, stanno al gioco, tutto va bene. Una delle domande più difficili da fare è Ehi, come stai? E qualcuno risponde con la verità. Sì, non sanno cosa... Sì, non ho avuto una bella giornata. Oh, non fa niente. Sono veramente depresso oggi. Tratto male il mio coniuge, visto che ci sono. No, se riusciamo a creare degli ambienti sicuri, io credo, quello che facciamo a dritto al cuore, come ha detto Ben della donna al pozzo, vogliamo che le persone lasciano che Gesù parli della loro sofferenza. Ciò che costruisce un ponte è che anche lui era sofferente. Alla Santa Cena disse Questo è il mio corpo spezzato per voi. È proprio lì, nella Santa Cena. Poi, mentre lasciamo che Gesù parli alla nostra sofferenza, vogliamo che si lasciano alle spalle il circolo vizioso di peccato e perdono. Pecco, chiedo perdono, commetto lo stesso peccato, chiedo perdono. Questo non dà molta speranza. Vogliamo che superino il circolo peccato e perdono per ottenere libertà ed entrare in un ministero di testimonianza nel contesto di una comunità cristocentrica. Quello che facciamo è ascoltare la loro storia. Poi condividiamo la storia di Gesù con loro e poi preghiamo con la storia di Gesù perché le informazioni da sole sono edificanti e motivanti. Lo ha insegnato in tutto il mondo. Ma se non ci spostiamo dalle informazioni all'applicazione, allora non avremo la trasformazione. Il cambiamento avviene e sapete com'è che la donna al pozzo è stata cambiata? Interagendo con il suo Salvatore dobbiamo permettere che Gesù parli ai nostri schemi di sofferenza. Faccio sempre questa domanda alle persone dopo aver fatto formazioni o dimostrazioni riguardo alla preghiera. C'è una differenza tra l'ascoltare le informazioni, vedere una depositiva di Gesù solo, abbandonato, tradito, abusato, spogliato nudo, tentato ad alleviare il suo dolore mentre grida perché. Questo è buono. Ma c'è una differenza tra il vedere le informazioni e applicare le informazioni. dicono sempre di sì. Si sposta da qui a qui. Ora, non vorrei, come dire, semplificare troppo, ma il ministero di preghiera e il discipolato dritto al cuore riguarda il portare guarigione e libertà alle persone. Ci sono molti che hanno la speranza della salvezza, ci sono centinaia di persone nelle nostre chiese o intorno a noi, persone che hanno accettato il Vangelo. Eppure, come hai detto, sono bloccati in un ciclo di peccato e richiesta di perdono. In altre parole, siccome la loro coscienza è stata risvegliata, sanno che alcune delle cose che fanno sono peccaminose, distruttive. Quindi dicono «O Dio, perdonami ancora una volta!» Ma sembra esserci uno schema, questo circolo vizioso. Parlaci un po' di questo, prenditi un paio di minuti per questo elemento del cielo. Abbiamo la salvezza. Eppure, molti di noi continuano ad avere questi schemi ripetitivi che sono distruttivi. Beh, per esempio, negli Stati Uniti si spendono 60 miliardi di dollari in diete e solo il 5% di queste persone mantiene il peso forma. Quindi il 95% vive in questo ciclo di peccato e perdono. È scoraggiante e si sentono peggio riguardo a se stessi. Tra il 50 e il 70% degli uomini nelle chiese ammettono di lottare con la pornografia. Potrebbe essere una volta al mese, a settimana, al giorno. Quanto entusiasmante può essere condividere la buona notizia con altre persone quando ho un'esperienza? Non sto parlando di perfezione, ma non ho sperimentato la libertà in un'area della mia vita. So di essere perdonato. So di aver accettato Cristo. So di avere la vita eterna. Ma lotto con il cibo, con la rabbia, con la vergogna, con il senso di colpa, con la pornografia. Cosa succede alla mia vita spirituale e alla mia speranza quando non riesco a superare questo ciclo di peccato e perdono? Vengono derubate. Vogliamo che le persone abbiano speranza, non perfezione istantanea. Quando iniziamo a pregare con le persone e a fare un percorso di discepolato settimana dopo settimana e ottengono un'ancora di speranza, improvvisamente la loro attrazione per la pornografia diminuisce dal 50%. Ora hanno un'ancora di speranza, dicono. Il Vangelo è reale. Non siamo perfetti all'istante, ma c'è un cambiamento dei nostri pensieri. Giusto per elaborare su questo, e ben, tu puoi intervenire in qualsiasi momento per chiarire, il fatto che le persone continuano a fallire nel loro cammino con Cristo può portarli ad ascoltare il diavolo che sussurra al loro orecchio lo vedi? La tua professione di fede non è genuina. Esattamente. La tua salvezza non è autentica. La ragione per cui sbagli è che non sei veramente salvato. Questo è qualcosa che ti dicono? Continuamente. Poi iniziamo a credere che non posso essere veramente perdonato e questo ci allontana dal Vangelo. Dillo un'altra volta. È potente. Il diavolo ci mente prima che pecchiamo perché è il padre della menzogna. Ma poi ci lascia in pace e ci mente anche dopo che abbiamo peccato e poi iniziamo a dubitare. Posso essere perdonato? Posso veramente essere accolto da Dio? Luca 4,18 dice Il Signore mi ha unto. Gesù lesse questo passo la prima volta che parlò nella sinagoga della sua città. Il Dio sovrano mi ha unto per evangelizzare i poveri. Poi quello che dice è la prima cosa che dice dopo è per guarire quelli che hanno il cuore rotto per proclamare la liberazione ai prigionieri. Oggi questa scrittura si è adempiuta nei vostri orecchi. Quindi ha detto io sono venuto per adempiere la profezia la mia dichiarazione di missione è predicare il Vangelo e il frutto di questo Vangelo dovrebbe essere la guarigione di quelli che hanno il cuore rotto e la liberazione dei prigionieri. Quindi quando faccio formazione ai pastori chiedo a loro è questo il frutto del vostro Vangelo se non lo è dovremmo ampliare il Vangelo della sua vita e sofferenza in aggiunta alla sua morte e resurrezione. Così possiamo offrire alle persone Vangelo che non sia a metà per dar loro la pienezza di Gesù. È incredibile è quasi come se questo messaggio fosse sempre stato lì è sempre stato parte della storia del Vangelo ma quasi lo completa completa il ciclo vero Ben? La cosa entusiasmante della quale parlavi prima hai menzionato che abbiamo la speranza del cielo qualcosa che ci piace condividere con altre persone ma che cosa ne è della vita sulla terra? Che cosa succede nel mio cuore proprio ora? C'è una donna che è cresciuta con una madre che le diceva sempre potresti fare questo meglio potresti fare quello meglio questa donna è cresciuta con la bugia che non era abbastanza brava che non poteva fare niente che fosse buona abbastanza tramite dritto al cuore stava guidando per andare ad un incontro una sera ci proverò e vedrò di cosa si tratta pensava sai cosa? Ti prenderanno in giro sei una donna dei 50 anni la tua vita dovrebbe essere a posto dovresti aver risolto i tuoi problemi è quasi tornata indietro ma quando è arrivata ha capito aprendosi nel gruppo ed essendo genuina ha identificato la bugia che lei non era abbastanza buona l'ha portata a Dio in preghiera e con lo studio della Bibbia ha capito che questa verità come dice Giovanni 8 32 Gesù disse conoscete la verità mi piace la verità vi farà liberi questa bugia ha iniziato a perdere il suo potere e quando la menzogna perde il suo potere il frutto negativo nelle nostre vite nelle nostre relazioni e nel nostro comportamento diventa sempre più piccolo fino a quando questo ciclo di peccato e perdono si spezza è entusiasmante fare questo percorso con qualcuno e ricordate chiunque può accompagnare qualcun altro in questo processo mentre ti ascoltavo parlare di questa persona che stava andando in chiesa una delle cose più grandi che ho visto è che il nemico attacca le persone in modi diversi e uno di questi modi è la bugia del non sei abbastanza bravo la bugia del non sei abbastanza santo un giovane mi ha detto mentre lo guidavo nel processo di preghiera e discepolato di dritto al cuore uno dei giovani mi ha detto stavo andando in chiesa e quello che ho sentito è stato non andare in chiesa perché sei così pieno di peccato che rovinerai quelle persone gira e torna a casa pensateci questo è dove sono le persone oggi ma noi siamo pastori non siamo mai scoraggiati giusto ragazzi? non sbagliamo mai noi abbiamo di vittoria e vittoria la realtà nella quale viviamo è vero lo scoraggiamento il fallimento il rialzarsi e lo scuotersi la polvere di dosso come andremo avanti questo ci connette con le persone e sono certo che chi ci sta guardando ora dirà ehi aspetta un attimo c'è del vero in questo la versione King James usa la parola accolto 250 volte nel Nuovo Testamento vorrei che cambiassimo veramente il nostro linguaggio da signore aiutami ad impegnarmi di più al ricevere diciamo che questa persona pensa di non essere abbastanza buona cosa sarà più efficace? è lui che cerca di convincersi per vincere il suo dialogo interiore negativo dialogo interiore positivo per vincere il dialogo interiore negativo allora l'io diventa la sorgente della forza cosa succederebbe se iniziassimo a dire io sai io ricevo la tua bontà se sono respinti io ricevo la tua accettazione quello che ho scoperto quando cambiamo dall'impegnarci di più a quello che sappiamo già fare e ricevere quella caratteristica di Cristo che è legata alla nostra difficoltà ci viene tolto il peso ora l'attenzione sulla performance di Cristo non sulla nostra in ebrei ha detto che Gesù è stato tentato in ogni cosa ha sofferto come noi in ogni modo senza eccezioni alcuni dicono era un uomo non una donna in che modo Eva fu tentata da una bugia e ci ha creduto Adamo fu tentato da un'altra bugia e ci ha creduto come è stato tentato Gesù è stato tentato di credere di essere rifiutato abbandonato tradito non abbastanza buono mentre era da solo tradito picchiato quasi a morte e inchiodato alla croce il diavolo l'ha lasciato stare o l'ha tentato di credere che Dio l'avesse abbandonato di credere che non era abbastanza buono in ebrei 2 è detto che ha sofferto nell'essere tentato e così ci può aiutare quello che vogliamo fare è inizialmente connettere la loro storia alla storia di Gesù ascoltare la loro storia condividere la storia di Gesù e pregare la storia di Gesù diamo loro ancora di speranza per proseguire nel percorso del discevolato è completamente incentrato su Cristo non è incentrato su di me incentrato su di te tutto riguarda Gesù ed è la cosa più incredibile tutto riguarda Cristo e nient'altro sono un pastore e un terapista familiare ho scoperto che Cristo è il miglior terapista ed è molto meglio connetterli con la storia di Gesù e pregare la storia di Gesù con loro gente sono così entusiasta per noi sono entusiasta per voi mentre forse per la prima volta state conoscendo il ministero di preghiera è discepolato dritto al cuore Paul dici come le persone possono mettersi in contatto con te dici del libro che uscirà dacci il contatto il nostro libro è la metà nascosta del Vangelo come la sua sofferenza può guarire la tua Michael Card un noto musicista ha scritto la prefazione nell'estate del 2014 due mesi fa ormai abbiamo anche un sito web straight to the heart punto com è il numero due non la parola tu e poi c'è anche il mio indirizzo email paul chiocciola straight to the heart punto com ancora una volta il numero due non la parola tu se mi dovete scrivere andate sul sito e cliccate sul contatta e mi troverete perché faccio un po' tutto io dal capocuoco allo sguattere grazie per averci seguito siamo grati che vi siate presi il tempo per stare con noi su Generation XS possa Dio benedirvi e proteggervi sempre